Buongiorno a tutti, ora verrà scoperta la tecca della vettura dove viaggiava la scorta del dottor Falcone nella strage di Capaci del 1992. Diamo il via alla cerimonia. Oggi è giunta a Sarzana la quarto Savona 15, la macchina della scorta di Giovanni Falcone che il 23 maggio 1992 è letteralmente saltata in aria e stata sbalzata a 300 metri di distanza saltata in aria su 500 chili di tritolo. Ad accoglierla qui a Sarzana tante le autorità e i ragazzi delle scuole. Sono passati 25 anni dalla strage di Capaci. Il percorso è ancora lungo ma tanto è stato fatto in particolare per la lotta al contrasto alla mafia e per la legalità. Un quarto di secolo sembra tanto ma il ricordo di quella stagione cruenta e crudele è ancora vivo in tutti noi, nei siciliani e negli italiani tutti. Molte cose sono state fatte ma ancora molto altro deve essere fatto perché sicuramente la vittoria definitiva nel contrasto ad ogni forma di aggressione criminale è ancora lontana, è ancora irta di ostacoli. Quindi bellissimo questa iniziativa non solo per ricordare ma anche per spronare tutti noi cittadini e istituzioni che questo cammino è ancora lungo e l'impegno deve essere costante e continuo. Gli uomini della scorta di Giovanni Falcone erano composti dal capo scorta Antonio Montinaro e due agenti Vito Schifani e Rocco Di Cilio. Uomini e donne della Polizia di Stato che hanno messo di fronte alla loro vita, hanno letteralmente sacrificato la loro vita per la lotta al contrasto a tutte le mafie e per la legalità. Sì, un esempio per noi, un esempio che nel corso degli anni è servito tantissimo anche perché dopo di loro purtroppo abbiamo avuto altri caduti. Uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per un ideale, per un giuramento che hanno fatto nel momento in cui sono entrati in polizia, cioè quello di difendere lo Stato e di difendere i cittadini. Sarzana è solamente la prima di un percorso di otto tappe che letteralmente scorterà la Quarto Savona 15, capo scorta per così dire la moglie di Antonio Montinaro, Tina Montinaro, fino a Palermo. Giungerà a Palermo il 20 di questo mese. Abbiamo iniziato proprio da qui, da Sarzana, perché ci tenevano ad avere qui la Quarto Savona 15 e quindi ci facciamo tutta l'Italia, perché penso che sia importante, importante per i giovani che ai tempi non c'erano ed è giusto far camminare questa memoria, anche perché penso che la strage di Capaci non appartiene solo a me, ma appartiene a tutta l'Italia. Sarzana, come ha raccontato il sindaco, oggi è stata duramente colpita dalla mafia durante la strage dei Giorgofili, in cui è avvenuto a mancare Dario Capolicchio, giovane ragazzo sarzanese. E quindi compito anche delle istituzioni locali quello di lottare per una cultura della legalità. Creare momenti come questo, cercare di coinvolgere i cittadini, ma soprattutto le giovani generazioni che devono sapere purtroppo cosa è successo 25 anni fa, ma cosa può accadere ogni giorno. Quindi noi dobbiamo trasmettere a loro un messaggio di attenzione, perché la mafia esiste ancora purtroppo e quindi noi dobbiamo creare tutti quegli anticorpi necessari per debellare questo male. Tanti ragazzi delle scuole presenti, non solo di Sarzana, delle scuole medie, delle scuole superiori, che non hanno potuto conoscere direttamente quanto accaduto quel giorno. Certamente la memoria è importante, è fondamentale, perché è attraverso la memoria che si possono creare gli anticorpi per una società che possa vivere o quantomeno contenere il crimine. È importantissimo questo. Oggi si celebra veramente tre eroi che hanno deciso... Tina parla spesso di scelta di vita, forse una scelta di vita che purtroppo è stata anche una scelta di morte, perché il rischio era elevatissimo. Quindi siamo qui per ricordare questi tre eroi autentici ed è importante che ci siano molti giovani, perché poi i giovani sono il motore della storia, insomma il motore del cambiamento. Questo è quello che serve veramente, un approccio culturale diverso per poter far sì che questo paese possa finalmente liberarsi di questa cappa terribile che è la criminalità organizzata e la mafia. E Tina Montinaro, ricordando il marito molto spesso, ricorda anche le sue importanti parole. La paura è qualcosa che tutti abbiamo, ma la vigliaccheria non deve rientrare nell'ottica umana. Il marito di Tina Montinaro e gli uomini della scorta di Falcone erano sicuramente degli uomini eccezionali, degli eroi fuori dal comune. Erano uomini eccezionali perché hanno fatto una grande scelta di vita. Decisero di scortare il grande magistrato Giovanni Falcone. I tempi erano quelli che erano e quindi è chiaro che avevano bisogno di tanto coraggio. E tra l'altro ricordiamo che comunque erano dei ragazzi, erano proprio giovanissimi. Antonio aveva 29 anni nel 92, Vito Schifani ne aveva 27, Rocco di Cillo ne aveva 30. Quindi erano proprio dei ragazzi. Quel 23 maggio a Palermo loro non li hanno fermati perché siamo tutti quanti noi. E questo è quello che dobbiamo dimostrare. Quindi grazie ragazzi, grazie e avvicinatevi alla macchina e guardate. Grazie. Grazie. Grazie.